Eh sì, era nell'aria già da un po' di tempo e alla fine anche qui in Italia è aumentato il costo, il prezzo del servizio d'abbonamento Amazon Prime di Amazon. Ora vi spiego tutto. Anche qui in Italia dicevo perché in altri paesi, non solo dell'Unione Europea, ma anche negli Stati Uniti ad esempio, il prezzo dell'abbonamento dell'Amazon Prime è aumentato considerevolmente già da un po' di tempo, arrivando alla soglia dei 100 euro, 100 dollari annuali. Quindi diciamo che un aumento di prezzo anche qui in Italia dove il prezzo era, era ormai possiamo dire, era bloccato sui 36 euro già da alcuni anni, beh, era abbastanza prevedibile. Anche considerando che negli ultimi due anni sono stati aggiunti al servizio Amazon Prime tantissimi sottoservizi sempre inclusi in quei 36 euro come la Champions League, film e serie TV, abbiamo lo spazio d'archiviazione illimitato per foto e video, oltre ovviamente alle offerte esclusive per i clienti Amazon Prime, le spedizioni in un giorno anche se qui ci devo tornare tra un istante, altre cosine come sconti su alcuni fast food, videogiochi gratis mensilmente, che vi segnalo ovviamente sul mio canale Telegram dell'offerta Tech by Sales linkato qui sotto in descrizione di video, e altro ancora. Il prezzo dell'Amazon Prime quindi in Italia passa, per quanto riguarda l'abbonamento annuale, dai precedenti 36 euro agli attuali 49,90 euro, lo ripeto, annuali, a partire dal prossimo 15 settembre. Attenzione perché questo significa che chi rinnoverà il servizio, l'abbonamento Amazon Prime prima del 15 settembre, o comunque chi ha la scadenza programmata prima di quella data, beh pagherà 36 euro, poi l'anno prossimo anche questi utenti pagheranno i 49,90 euro, che sono previsti per tutti gli utenti che si abboneranno o rinnoveranno il loro servizio Amazon Prime dal 15 settembre 2022 in poi. Questi sono i prezzi dell'abbonamento annuale, per quanto riguarda invece i prezzi dell'abbonamento mensile, si passa dai 3,99 euro mensili attuali ai 4,99 euro. E aumenta anche il prezzo dell'Amazon Prime Student dai 18 euro, se non vado errato, attuali ai 24 euro, 25 euro del nuovo tariffario, chiamiamolo così. C'è da dire che Amazon sta inviando nelle ultime ore un'email a tutti i suoi abbonati Amazon Prime e almeno sotto questo aspetto si è comportata bene, è un comportamento corretto, avvisando che l'aumento di prezzo è legato all'inflazione. Eh ok ragazzi, questa è un po' la scusa per tutti gli aumenti attuali, scusa o no, comunque ci sono sempre questi aumenti a volte giustificati, a volte più ingiustificati, però diciamo che i prezzi stanno sempre più aumentando. Gli stipendi invece, i compensi sono sempre quelli più o meno, quindi inizia ad esserci un po' di squilibrio sotto questo aspetto. Vedremo in futuro cosa succederà. Sicuramente dovremo rinunciare magari a qualche servizio, perché se i prezzi continuano ad aumentare ragazzi, non lo so quanto ci sarà ancora di conveniente, come ad esempio Netflix che ha aumentato un po' i suoi prezzi nel tempo, Disney Plus credo che seguirà la stessa strada. C'è da dire però che Amazon Prime, a differenza degli altri servizi che avevo appena citato, oltre a serie tv e film, dà anche tanta 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 altra roba, che magari per chi non è interessato può essere un incremento di prezzo importante che porterà a disdire il suo abbonamento, per chi invece come me tende a sfruttare tutti i servizi dell'abbonamento Amazon Prime, come i videogiochi gratuiti, che per me sono tanta roba, e lo spazio di archiviazione è limitato per le foto, beh anche 50€ sono una cifra accettabile. Se il prezzo fosse ancora superiore, beh ci penserei un attimino. Bene ragazzi, volevo informarvi su questi aumenti, penso sia un tema molto importante, discusso, e da discutere insieme qui sotto nei commenti. Dite la vostra, ditemi cosa ne pensate, se trovate questi aumenti giustificati. Pensate che questi 50€ annui siano una cifra esagerata, spropositata per i servizi che Amazon offre, oppure pensate che siano una cifra ancora ok, abbordabile, questo sempre considerando che a nessuno piacciono gli aumenti, tanto meno a me. Se non ricordo male, l'Amazon Prime inizialmente, quando trattava giusto spedizioni veloci, costava attorno ai 20€, forse qualcosina in meno, annui. Un consiglio che mi permetterei di dare ad Amazon è magari quello di creare diversi pacchetti di abbonamento, perché magari c'è chi è interessato solo alle spedizioni veloci, alle offerte del suo store, e chi magari è interessato solo alle serie tv, ai film, e così via. Quindi magari si potrebbero creare vari pacchetti a cifre diverse, magari 20€ all'anno, solo perché è interessato alle spedizioni veloci, 15€ all'anno, 20€ all'anno anche lì, perché è interessato solo a film e serie tv, e così via. Potrebbe essere una soluzione, almeno io credo, ditemi voi cosa ne pensate. A inizio video vi ho detto che vi avrei parlato anche delle spedizioni veloci, in quanto mi state segnalando in tanti, e l'ho noto anche io con le mie spedizioni, che ultimamente anche le spedizioni Amazon Prime un giorno stanno davvero rallentando. Questo non credo sia un problema da imputare ad Amazon in sé, ma più che altro ai corrieri che utilizza, specialmente SDA post italiane, lo sapete no? Io invito Amazon a dare una controllata a questo aspetto, una strigliata magari ai suoi corrieri, capisco che è il periodo estivo, però se si fanno pagare per spedizioni veloci a un giorno, io mi aspetto di ricevere il servizio che pago. Invece per quanto riguarda il corriere specifico di Amazon, quelli che girano con il camioncino marchiato Amazon, diciamo che sono sempre stati abbastanza puntuali, almeno lì non mi posso lamentare. Ok ragazzi, ora passo la palla a voi come al solito, aspetto i vostri commenti qui sotto, ditemi cosa ne pensate di questi aumenti di prezzo, e parliamone insieme, discutiamone, e se volete date un'occhiata qui sotto in descrizione del video, perché vi lascio il link per consultare un po' tutti i benefici che comporta un abbonamento Amazon Prime, vi lascio il link anche per il mio canale Telegram dell'offerta, TechVestZ, il suo pubblico giornalmente, decine di offerte da Amazon e non solo, dateci un'occhiata, e anche il link per il mio gruppo Facebook, Droni e Tecnologia Italia, nella mia pagina Instagram. Entrate numerosi, vi aspetto, e vi aspetto anche nel mio prossimo video, sempre qui su Addictus to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!